Io sono il Dio P Maggiore Hartmann, vostro capo istruttore! Da questo momento potrete parlare solo se interrogati! E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore! Capito gli uridissimi vermi? Signor, sì, signore! Se voi signorine finirete questo corso, se sopravviverete l'addestramento, diventerete un'arma! Sarete dispensatori di inquadrature! Pregherete per riprendere! Ma fino a quel giorno siete uno spunto, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo! Non siete neanche dei fottuti operatori! Sarete dei pezzi in formi di materia organica anfibia, comunemente detta ***! I tuoi genitori hanno anche figli normali? Signor, sì, signore! Saranno benditi di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembra un caffalavoro d'arte moderna! Fortunati! 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 Guarda!